Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1944 di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. 26 maggio 1944. Dice Gesù. Perché dice Isaia? Siti bondi, venite all'acqua, e anche voi che non avete denaro, correte a comprare e mangiare vino e latte. Perché c'è chi ha pagato per voi tutte le ricchezze eterne, e per la vostra fame e la vostra sete, ha acquistato e macinato il grano più puro, e acquistato e spremuto l'uva più bella. E di questo suo acquisto, pagato con un valore senza misura, e macinato e spremuto con un sudore di sangue, vi ha fatto un pane e un vino, che levano ogni fame e ogni sete, che non sia fame e sete di ciò che è spirituale, e che danno, a chi li riceve, la vita. Il grano è la carne, nata nel seno virginale, della sposa mia. Il vino è il sangue, la cui sorgente è nel cuore immacolato, e si è aperto come boccio di fiore, quando il mio fulgore è sceso, come strale di fuoco, a far di lei una madre. La madre di chi le era insieme, padre e sposo. Oh, momento in cui fummo noi tre beati, nel suo cuore, e trovammo l'amore della creatura, quale l'avevamo desiderato, in ogni creatura, e quale nessuno, fuorché ella, Maria Santissima, lo possedeva. Il suo sangue, poche stille intorno al germe del Signore, ma divenne poi sì grande fiume, sì inesausto fiume, che mai non cessa da secoli di fluire, né cesserà, sino all'estremo giorno. Io, l'amore, l'ho donato, questo cibo, perché fosse testimonio ai popoli della bontà del Padre. Io l'ho donato, questo verbo. Il mio amore lo ha mandato sulla terra, perché fosse maestro ai popoli, e condottiero di essi a Dio. E per amore, Egli da noi si è scisso, e l'eterna parola è rimasta nel suo penoso esilio, la cui fine fu una morte obrobriosa, sinché non ha dato il frutto atteso dalle genti. La redenzione. Redenzione dalla colpa, attraverso il suo sangue. Redenzione dalle debolezze, attraverso la sua carne. Redenzione dalle ignoranze, attraverso la sua parola. Egli ha compito tutto quanto l'amore ha voluto. Ha operato tutto quanto doveva. In nulla si è risparmiato. Non chiudete lo spirito vostro a questo tesoro. Venite, che si tibondi siete. Voi che sapete d'esserlo, e voi che, più morenti ancora, neppur più sapete d'esserlo. Venite. Qui vi è il vino che corrobora, e il latte che consola e medica. E se siete poveri e senza denaro, venite ugualmente. L'amore uno e trino vi apre le sue ricchezze, purché voi lo amiate.